In questo periodo di festività pasquale saranno aperti i musei e le aree arcologiche di Salerno e ad Avellino. La sovrintendenza aprirà il giorno di Pasquetta al complesso di San Pietro a Corte dalle 9.30 alle 18.30. Sarà aperto anche il museo virtuale della scuola medica salernitana in via Mercanti dalle 9.30 alle 13.00. In provincia invece avremo l'apertura sia a Pasqua che a Pasquetta del parco archeologico di Velia che aprirà dalle 9.00 fino a un'ora prima del tramonto. In costiera amalfitana invece alla Villa Romano di Minori avremo l'apertura sia a Pasqua che a Pasquetta. Apertura anche in provincia di Avellino al parco archeologico di Mirabella che sarà aperta a Pasqua e a Pasquetta.